Benvenuti a Napoli, sei atterrato all'aeroporto di Capodichino, il più grande del sud Italia. Ma quando mai, benvenuto a Napoli, sei sbarcato nel grande porto della nostra città, dove ogni giorno arrivano tante navi di turisti? Insomma, in aereo o in nave, benvenuti a Napoli. Nella nostra città ci sono tanti posti fantastici, dove puoi soggiornare, case vacanza o hotel, a due, tre, quattro, cinque stelle. E poi la città è piena di bar, ristoranti e pizzerie, e puoi mangiare cose buonissime, e costano pure poco. Ma quello che preferisco io è la pizza! Napoli è un'opera d'arte sotto al sole. Qui c'è anche il Museo archeologico nazionale, con il più ricco patrimonio di opere d'arte di epoca antica. Lì si conservano i preziosi reperti di Pompei e di Ercolano. Ma mica finisce qui! C'è anche Caserta, con il suo palazzo reale, tra i più belli al mondo! Se poi ti piace stare all'aperto, puoi fare tante esclusioni, in uno dei nostri palchi nazionali, oppure visitare le zone calde, i nostri vulcani, il Vigilio e i campi flegrei. E poi c'è il nostro mare, nel nostro corpo ci sono Capris, Chie e Procida, tre isole uniche e bellissime, con spiagge meravigliose, e grandissimi stabilimenti termali, e puoi andare anche in cospiera. A me invece sarebbe il Vigilio Pozzitano, lui invece è Cucinella, la maschera più famosa della Cucinella, ed è nata qui. Insomma, in compagnia di Cucinella, ho di una buona pizza! Via a Napoli, in campagna, nella nostra terra, non sarai mai solo, quindi vieni a Napoli e vivi! Grazie a tutti!